Sognare non è proibito E' chiaro che noi andiamo a affrontarla con la giusta mentalità, la giusta tra virgolette cazzimma che dice De Laurentiis, questa ci deve essere perché noi non dobbiamo fare i voli pindali. Andiamo in un campo dove dobbiamo giocarla e nella maniera giusta, senza lasciare niente, però giocarla, giocare la partita come la dobbiamo giocare capendo che andiamo in un campo molto difficile. Però al di là di questo non è proibito sognare ma il nostro sogno è quello di raggiungere... Io vorrei che i ragazzi capissero qual è il momento importante della stagione. Questo è un momento importante dove ci sono diverse gare che bisogna saperle giocare e ci deve servire per raggiungere a più presto la nostra salvezza. No, da temere no, ma molto rispetto, rispetto di una squadra che gioca bene, una squadra che ripeto, una squadra ben organizzata, però stiamo bene anche noi. Al di là degli infortunati che Gen City non farà parte della gara, stamattina a Paghera c'è un problema, insomma adesso rivediamo un attimino un po' tutto, no? Ma l'idea di questo noi la partita la tendiamo a giocare con la giusta cattiveria, agonistica, con la giusta voglia di far bene, ma ci mancherebbe. Ci abbiamo Gonzales che lo può fare, lo può fare benissimo. Io ho convocato Migliorini, ma non è ancora pronto. Io, secondo il mio punto di vista, l'ho convocato perché onestamente di difensori non ne ho molti. A di là di questo il problema maggiore è oggi con Paghera che ha una piccola distrazione, vediamo un attimino domani. L'ho convocato uguale. A di là di questo credo che scenderemo in campo con degli uomini importanti. Con Gonzales può fare benissimo il centrale. Io non sono uno che stravolge molto le cose. A me piace mettere ognuno al proprio posto. Sì, adesso vediamo Omenga o lo stesso D'Angelo, insomma, come ha detto lei. Omenga sta bene comunque.